E' uscito il tuo secondo brano, un pezzo dell'atmosfere fresca e spensierate. Cosa ci racconti in questa seconda tappa della tua produzione artistica? Allora, il nuovo brano si intitola Quando ascolto un pezzo reggae ed è un brano semplice, diretto, estivo, fresco e racconta la vita quotidiana che ognuno di noi vive d'estate. Quindi saranno scene, saranno e sono parole frutto di vita vera, di realtà e di quel periodo dell'anno in cui c'è la massima spensieratezza. Così come l'inizio del brano, ho iniziato un pezzo reggae per sorridere come un volo di gabbiani sopra il tevere, sono immagini trasformate in foto che ci fanno vivere l'estate e mi auguro che vi piaccia. E la tua seconda canzone, l'esordio è stato con un singolo molto autobiografico. Cosa ti ha spinto a un certo punto a tirare fuori dal cassetto tutto ciò che avevi messo dentro per anni? La passione. E la passione che mi rende vivo e che mi fa... che mi tira fuori qualcosa che ho dentro. Quindi quella passione che ho per la scrittura, che ho sempre posticipato e rimandato negli anni, sono arrivato al punto di prendere consapevolezza, di voler dimostrare, di voler fare, di voler condividere più che altro. Quindi quelle canzoni che ho sempre tenuto nel cassetto adesso le condividerò con tutti, con chiunque ho il piacere di poterlo fare. In Giovani e i Ribelli mi sono messo a nudo come faccio in tutte le canzoni. C'è un'evoluzione all'interno del brano. C'è quella voglia di vivere che ha il bambino, che ho io, ragazzo, che ha un anziano. E c'è quindi una trasformazione, un'evoluzione all'interno del brano, in cui vive sempre quel concetto di essere giovani e i ribelli, ovvero non aver paura di aver paura, ma aver voglia di vivere. In un mondo della musica che cambia continuamente, ti presenti con queste canzoni e questo progetto, con quale prospettiva? Allora, attualmente è tutta musica 100% indipendente, senza etichette discografiche, senza produzione, tutto indipendente. Il mio sogno, il mio obiettivo è quello di poter far ascoltare i miei brani a quante più persone possibile, quindi non limitarmi a una determinata cerchia, ma poterle far ascoltare a quante più persone e trovare il modo per farle ascoltare, perché è qualcosa che amo fare, che mi piace fare, che per me è semplicissimo. Quindi magari le volte senti anche dire, ma il mercato musicale è difficile. Per me è semplice, non lo so, ma è piuttosto semplice quando credi in quello che fai e ti piace da morire quello che fai. Quindi poi vediamo un attimo quello che succederà domani, ma continuerò a tirar fuori canzoni e a sorridere con questo. Come si fa a trasmettere le emozioni che si provano in canzoni? Allora, la maggior parte dei testi è frutto di vita vera, vissuta. Quindi anche quando vai al bar a parlare con qualcuno e ascolti un qualcosa, è un assimilare parole, emozioni, sorrisi, occhi spenti, occhi vispi. È frutto di vita, è semplicemente la vita. Quindi non faccio altro che buttare sul foglio quello che vivo, perché la maggior parte è autobiografico, ma anche quello che non ho vissuto, che magari vivrò o che non vivrò mai. Quindi essere consapevoli di voler dire la verità. In ogni testo, in ogni canzone dico la verità, dico la realtà, quella che mi immagino e che vivo. Hai iniziato questo percorso segnando già le prime tappe. Come proseguirà questa esperienza nel mondo della musica? È un punto interrogativo perché non so quello che mi può riservare il domani. Di certo so quello che mi può riservare l'oggi ed è la determinazione che ho nel condividere tutte le mie canzoni. Questa è la seconda, c'era stato anche un intro che è Dillo sottovoce, un altro brano. E quello che può succedere, ora come ora, non lo so. Sicuramente manderò avanti questa che è la mia passione, la mia determinazione non si fermerà. E il mio obiettivo è farla ascoltare a quante più persone possibili, partendo dal nostro territorio pastese. C'è tanto mare nelle tue canzoni, c'è il mare qui oggi. Che cosa rappresenta per te questo elemento naturale? Tutto. Il mare è ossigeno. Ho vissuto anche anni fuori da Vasto, Milano. Ma il mare è vita. Il mare ti fa rendere conto che c'è qualcosa di più grande di noi. Così come un cielo con il sole, un cielo stellato. E la natura dà una forza disarmante, anche quando voglio buttare giù delle parole, graffiare parole sul foglio. Il mare è vita. Ora aspettiamo il video di questa nuova canzone, ma hai già deciso cosa accadrà dopo? Il video uscirà breve. Rispetterà appieno il testo, quindi sarà un video fresco, estivo, tra amici. Ogni due mesi circa uscirà una canzone, quindi prima di Natale non usciranno altre due. e saranno brani poi ovviamente tutti completamente diversi l'uno dall'altro, ma conservando quella che è la mia emozione quando scrivo le canzoni. Quello che è anche il mio obiettivo, quindi emozionare in modo semplice, scrivendo parole, cantando, musicandole e comunicarle. Comunicarle.